Ciao ragazze, ciao ragazzi, allora visto che mi sono arrivato un sacco di richieste, letteralmente tantissime in cui mi chiedete di farvi il video con i trucchi di Chiara Ferragni, sono appena usciti e io li ho ordinati, li ho acquistati proprio per farvi questo video, per testare con voi e per vedere come sono quindi vedremo la resa su di me e vi dirò insomma le mie opinioni, come ogni video, review, recensione, ok il pacchetto io ho ordinato da Douglas, che credo sia l'unico posto dove si possono trovare i trucchi di Chiara Ferragni al momento almeno ho ordinato, qui c'è la To Denver come al solito, ho ordinato da Douglas e ragazzi il pacchetto mi è arrivato con la velocità della luce tipo un giorno lavorativo e già era qui, quindi insomma per questo devo dire non mi posso lamentare, mi è stupito questa cosa e ho acquistato 3 dei 4 prodotti disponibili di questa collezione perché il rossetto era sold out ma abbiamo il gloss e ci sono altri rossetti nella palette che ovviamente è il punto forte della collezione perché ci sono rossetti, illuminanti, blush, ombretti e anche un lip gloss in realtà quindi parliamo del packaging ragazzi che è meraviglioso allora devo essere sincera, vabbè lo sapete, il rosa è il mio colore preferito ho gli occhi azzurri, mi piacciono tutti i glitterini, i packaging con i glitterini, i rosa eccetera e quindi questi sono particolarmente fatti per me, cioè mi piace un sacco il packaging ma già vi avevo detto che il packaging, il gatto never oggi è particolarmente lo quace già credo, cosa c'è la credenza? amore mio appena premo rec comincia, lui è incredibile, prima niente amore mio, è bellissimo quello che abbiamo preso appunto è la palette in cui ci sono ombretti e tutti gli altri prodotti che vi ho appena detto poi c'è il mascara hypnose drama scusatevi che se non sbaglio è il mascara hypnose, quello semplice però ovviamente brandizzato con il packaging rosa e poi c'è il lip gloss e c'era anche appunto il rossetto ma ripeto era sold out e il lip gloss io ho scelto il numero non c'è scritto comunque e questo aranciato con glitterini dorati la palette, apriamo anche la palette assieme tanto poi la vedremo più da vicino mentre ci trucchiamo e wow ragazzi la sto aprendo con voi in diretta è meravigliosa con tutti questi glitterini rosa cioè vabbè io ho tutto rosa glitterato quindi per me è splendida ovviamente può piacere o può non piacere per me è splendida e questi sono tutti c'è anche un pennellino e questi sono tutti i prodotti all'interno appunto ci sono rossetti gloss rossetti ombretti blush e illuminanti se sono buoni prodotti buoni colori è sicuramente una palette molto completa ci sono anche dei pennellini qua sotto appunto ma noi useremo i pennelli in full size ovviamente ho già applicato la base il mio fondotinta la mia cipra il mio collettore eccetera tra l'altro ho usato il fondotinta Fenty Beauty ragazzi e continuo a non piacere questa volta l'ho agitato per me già ho fatto tutto quello che dovevo fare ma il fondotinta Fenty su di me si vede non mi piace il colore non è male è forse un pochino troppo chiaro per me però il fondotinta in sé per me è bocciato comunque ci tengo a sottolineare questo video non è sponsorizzato niente di niente allora nella collezione non c'è un primer occhi quindi vado a stendere quello che uso al momento ed è anche questo di Fenty Beauty per pure un caso anche se già ho in realtà correttore eccetera sulle palpebre però un po' di primer male non fa ho già applicato la terra oltre alla base ma non ho applicato il blush perché ho visto che nella palettina c'è appunto il blush di una tonalità ed è questo rosa ha tipo dei micro glitterini dorati mi ricorda un po' il Nars Orgasm chi se lo ricorda vado abbastanza leggera perché non so mai se i blush sono troppo scriventi e io mi ritrovo con le guanciotte di Heidi essendo super chiara non è proprio il massimo beh devo dire che non è esagerato come colore anzi forse sono abituata a blush un pochino più scriventi comunque questi micro glitterini all'interno lo rendono appunto anche un po' shiny cosa che a me non piace tantissimo ma sono preferenze personali perché non mi piace tantissimo l'effetto shiny sulle guance lo sapete non amo illuminanti e quindi di solito preferisco blush opachi però ovviamente è a preferenza i Nars Orgasm per esempio quello aveva anche delle belle scienze dorate quindi il blush sicuramente non è il mio preferito al mondo in questo momento ma il colore non è male a questo punto passiamo agli ombretti allora direi come illuminante e userei questo per andare un po' a uniformare il colore su tutta la palpebra uso appunto questo che è un color carne luminoso possiamo usare come specchietto proprio quello di questa palette perché no che è bello ampio questa è una cosa che mi piace vi devo dire la verità i colori sono piccolini ma presumo che per mettere più prodotto possibile abbiano fatto le celline proprio piccoline e vi devo dire che non ho letto e non ho seguito nessuna recensione su questi prodotti quindi non so se per gli altri sono buoni oppure no e quindi vi darò proprio la mia opinione molto molto neutra vedo che non ci sono ombretti completamente opachi il che mi dispiace un pochino perché lo sapete io preferisco gli ombretti opachi sono tutti perlati un pochino glitterati questo per me è una nota negativa ma appunto per la mia preferenza io preferisco se ci sono quattro ombretti direi almeno due opachi due magari shiny però vado ad usare per il momento vado ad usare questo bronzo sono molto simili questi due in realtà questo forse un po' più bronzo questo un po' più dorato sì l'effetto super shiny su di me non mi piace infatti l'illuminante che ho steso l'ombretto per lato è super super shiny non posso dire che non sia scrivente perché sicuramente è scrivente e che su di me non me lo vedo proprio non me li vedo questi colori così perlati forse perché li usavo tantissimo tipo buh dieci anni fa tipo quando ho aperto il canale youtube e adesso non riesco proprio a vedermi ci sono quelle cose che magari hai usato per talmente tanti anni che adesso dici no ecco questo è il feeling che io ho con questi ombretti so però che a volte piacciono gli ombretti perlati quindi anche questo devo dire questo marroncino dorato è scrivente e non è nemmeno troppo come dire si sfuma abbastanza bene un po' di fallout c'è e come andiamo a rifugirlo subito c'è un po' di fallout quindi niente di esagerato però allora poi sulla parte della palpebra fissa no mobile benissimo Nicole la parte della palpebra mobile vado a stendere invece questo oppure potremmo farlo un pochino più scuro no vado a stendere il marrone che è il più scuro di tutti vediamo anche com'è la scrivenza di questo qua che sembra un pochino meno glitterato degli altri quindi probabilmente mi piacerà di più no anche questo non è super super forte come scrivenza sono tutti molto leggeri mi ricordano un po' gli ombretti Chanel e gli ombretti Dior che se avete presente sono tutti così un po' più eleganti un po' più un po' meno pieni di colore ma proprio perché vogliono risultare più eleganti quindi credo che anche Lancome sia un po' su questa linea anche se non uso spessissimo prodotti di Lancome però quando mi è capitato di provarli testarli eccetera anche loro sono un po' più su questa linea del piuttosto una cosina un po' meno scrivente ma un po' più elegante ed è una scelta non è male secondo me come come scrivenza mi aspettavo una roba star strong invece non è affatto così però comunque il prodotto scrive e speravo fosse un pochino più scuro ma io sono abituata a smocchi molto scuri come ben sapete allora qua sotto c'è il disastro quindi un po' tanto fallout veramente da questi prodotti ho tutta la scrivania piena di ombretto sorvogliamo allora poi sulle ciglia inferiori vado a stendere sempre questo marroncino che ho usato adesso anzi prima andrei ad applicare quello dorato in modo un pochino più ampio e poi un po' più vicina alle ciglia vado a stendere quello più scuro tutto sommato l'effetto è molto carino ed è un trucco che vedo molto addosso a Chiara Ferragni sinceramente quindi secondo me si sono proprio ispirati ai trucchi che il suo make up artist le fa e i trucchi che a lei piacciono adesso vado con quello più scuro anche se le palette mi ricordano un po' quelle con cui giocavo quando ero più piccolina tipo quelle anni 90 avete presente non so perché ma sono l'unica forse la disposizione dei colori non lo so la forma delle cialde che ne so mi ricordano un pochino le palette con cui giocavo quando ero piccolina tipo devo dire che è stato abbastanza semplice e abbastanza veloce creare un trucco con questa palette il che non mi aspettavo ma forse perché con gli ombretti perlati solitamente è un pochino più semplice perché appunto sono meno pigmentati si sfumano più facilmente eccetera eccetera quindi forse è stata una tecnica buh non lo so andiamo adesso a sfumare se trovo il pennello si vado a sfumare il tutto voglio sapere anche che cosa ne pensate voi cioè vedendo utilizzari utilizzari vedendo utilizzati questi prodotti che cosa vi sembra che cosa ve ne pare o anche vorrei sapere se non so se sono già esposti da Douglas perché penso siano solo da Douglas almeno per il momento non so se sono già esposti e quindi se avete già avuto la possibilità di swatcharli e vederli comunque vorrei capire che cosa ne pensate voi perché ovviamente vedendoli utilizzati potete farvi anche un'idea insomma che vedendoli solo nella palette online non è come vederli in azione tutto sommato ragazzi molto molto carini non sono esattamente il mio genere perché ripeto io solitamente faccio trucchi quasi completamente opachi però le colorazioni mi piacciono molto adesso vado a stendere eyeliner e matita che purtroppo in questa collezione non ci sono non so se verrà ampliata se per il momento ci sono solo questi prodotti poi magari ne arriveranno altri lo spero perché mi piacerebbe provarli per il momento invece vado ad usare la matita all'interno dell'occhio di Deborah Milano questa è la Extra Eye Pencil numero 01 è fantastica questa poco è fantastica e poi ho il Too Faced Better Than Sex eyeliner ok adesso proviamo il mascara anche questo packaging bellissimo tutto rosa con il logo suo con gli occhi con un occhio aperto un occhio chiuso e vediamo com'è allora io conosco in realtà il mascara Hypnose Drama perché ce l'ho nella versione semplice di Lancome ed è un ottimo mascara quindi però vediamo com'è anche in versione Chiara Ferragni logicamente unica cosa lo vedo molto bagnato quindi secondo me mi lascerà le puntine di colore sotto il sopracciglio ok non è esattamente il mio mascara preferito sicuramente preferisco il Better Than Sex di Too Faced oppure il Bad Girl Bang di Benefit quelli sono i miei preferiti di sempre questo non è tra i miei preferiti è un buon mascara ma potrebbe essere più allungante più volumizzante non lo so non mi sconfiffera tantissimo purtroppo nella linea Chiara Ferragni non c'è un prodotto per sopracciglia ahimè anche qui spero lo facciano sarebbe molto interessante vedere com'è quindi io vado ad usare la mia Precise My Brow Pencil di Benefit per riempire le sopracciglia e delinearle e disegnarle un pochino confermo che purtroppo il mascara un pochino sbava perché è molto forse ovviamente essendo nuovo quindi è tutto tranne che secco è molto liquido e quindi se avete le ciglia abbastanza lunghe io insomma ho il Lash Lift e vanno a toccarvi la parte sotto il sopracciglio un pochino sbava infatti ho toccato le ciglia adesso e un po' ha sbavato poi quando li usi diventano un pochino si seccano e non lo fanno più però inizialmente con molti mascara mi succede mi succede anche qua sotto le ciglia oh oddio le ciglia piccoline vanno a toccare sotto la pelle e lasciano e lasciano colore ok sistemate le sopracciglia mi sono resa conto che l'ombretto mi ha lasciato un po' di fallout e quindi ho tutti questi brillantini non so se riuscite a vedere le videocamera li vedo molto da vicino ci sono tutti questi micro brillantini glitterini che si vedono parecchio non che sia una cosa brutta però non me l'aspettavo non è esattamente il look che volevo nonostante gli ombretti appunto mi piacciono c'è un po' questa cosa che ti ritrovi un po' glitterini ovunque ma che io non sono abituata ad usare ombretti con glitterini eccetera quindi non sto tantissimo attenta probabilmente prima di passare alle labbra vorrei utilizzare lo sapete se mi seguite lo sapete non amo gli illuminanti e secondo me non mi stanno proprio per niente bene però visto che sono ce ne sono tre all'interno di questa palette vorrei andare a testarlo giusto per farvi vedere la resa e il risultato tra questi tre andrei a a prelevare vediamo come sono se sono molto chiare allora questo è un pochino dorato e forse un pochino troppo scuro per me quindi andrei ad usare quello bianco un po' più perlato che una volta ha sfumato e se lo vedete è chiaro però è luminoso vado ad usare questo pennellino che non ho mai usato in vita mia piccolino due fibre vediamo com'è è un po' difficile prelevare i prodotti devo dire se si usano pennelli un pochino più ampi tipo con questo rischio di andare a prelevare anche il blush quindi questa è una cosa da tenere in considerazione proprio perché hanno fatto le cialde così piccoline con i pennelli è un po' difficile andare a prelevare sarà invece semplice ovviamente con i pennelli che l'hanno in dotazione però per me è un pochino complicato andiamo a stendere l'illuminante anche se ho già glitterini un po' ovunque in realtà beh si vede e come è molto scrivente ragazzi è un ottimo illuminante si vede molto quindi se siete fan dell'illuminante sicuramente questi non sono male ma già suocendoli in realtà ho visto che sono molto molto scriventi anche se non so se Chiara usa tanti illuminanti di solito non l'ho notata questa cosa però sicuramente questo si vede e c'è c'è e come mi piace che ce ne siano tre secondo me sarebbe stato meglio metterne magari soltanto uno o due e ampliare la scelta degli ombretti però ovviamente è idea personale ne mettiamo un po' anche sul naso e un pochino sull'arco di cupido che è forse l'unico l'unica zona del viso dove secondo me su di me è decente l'illuminante per una che non ama gli illuminanti questo è un grosso grosso complimento perché questo mi piace stranamente mi piace ragazzi allora a questo punto passerei proprio alle labbra nella palette abbiamo addirittura quattro rossetti e quindi alla fine sono contenta che il rossetto che volevo acquistare fosse sold out perché ne ho quattro qui e poi abbiamo anche il gloss il gloss è di questo è tipo un rosa corallo con i glitterini quindi andrei ad usare un colore abbastanza simile forse non andrei proprio sul rosso c'è anche da dire che il fucsia a me non sta bene quindi qui abbiamo due fucsia forse questo è un po' più un corallo ma magari io andrei su questo per cambiare un po' vediamo un po' come esce allora non è super 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 pigmentato è sicuramente shiny io preferisco i rossetti opachi ma anche qua preferenza personale allora una volta applicato per bene è sicuramente più pigmentato di quanto pensassi inizialmente ed è un colore molto estivo che penso sia stata una buona scelta perché secondo me questi colori lei e Lancome hanno un po' pensato in modo che potessero stare bene un po' tutte le carnagioni in questi casi ne so qualcosa con il mio kit con Benefit non è mai semplice ovviamente optare per dei colori che possono andare bene su tutte io solitamente non mi vedo tanto bene con i fucsia corallo però questo non mi dispiace quindi anche qui cioè direi che la scelta non è niente male sicuramente un colore che indosserei più in estate oggi ci sono 27 gradi ho paura a dirlo incrociando le dita sperando che insomma rimanga così il tempo quindi magari può essere anche un'estate quasi che sta arrivando però è carino mi piace mi piace questo colore andiamo a dissociarli allora questo abbiamo visto che è così poi c'è quello che è un pochino più viola sì più o meno come pigmentazione sono simili in realtà quello che preferisco tra tutti sarebbe questo rosato nude però ho appunto voluto provare qualcosina di diverso per questo video e poi c'è il rosso che lei indossa spesso e sono tutti appunto molto glossy e vediamo di andare a passarci il gloss sopra anche questo super super carino il packaging niente da dire davvero e si vede il colore attraverso il packaging questo è molto utile perché si può vedere anche quanto colore abbiamo ancora wow allora anche questo super glossy sicuramente rende un pochino più forte il colore del rossetto ragazzi devo dirvi la verità non mi aspettavo in particolare che questi rossetti mi piacessero ma sono molto carini allora ditemi voi secondo voi se mi sta bene questo colore perché magari a me piace poi voi mi dite Nicole ti sta orribile cioè è orrendo quindi non lo so a me personalmente piace mi piace la resa mi piace non so ovviamente come è la durata però e non sono esattamente i prodotti che io andrei necessariamente a scegliere se dovessi perché ripeto sceglierei prodotti labbra prodotti occhi opachi però tutto sommato una volta indossato una volta creato questo trucco non mi dispiace per niente quindi fatemi sapere che cosa ne pensate voi secondo voi appunto com'è la resa adesso che li avete visti al lavoro che cosa ne pensate che sono curiosa soprattutto voglio sapere se li avete già visti se li avete già swatchati in profumeria e se intendete acquistarli oppure no e sono curiosa di capire se ce ne saranno altri di questa collezione perché mi piacerebbe molto ripeto il packaging a me ragazzi fai pazzire cioè non c'è niente di meglio del rosa glitterato è top comunque questo è quanto un voto complessivo io darei un 7 7 più a questa collezione come packaging sicuramente 10 la cosa che mi è piaciuta di meno è il mascara non mi sono trovata tanto bene secondo me è un pochino troppo liquido e tende a sbavare sarebbe stato meglio un prodotto più buildable magari perché se vado a fare più passate di questo mi diventa tutto un patatrack tutta una specie di tipo ragliatela quindi non è proprio il massimo per quanto mi riguarda la palette è promossa anche se non mi piace esteticamente questo devo essere sincera non mi piace esteticamente la forma delle cialde eccetera non mi piace mi sa un po' di palette anni 90 se devo essere sincera però ragazzi il colore su di me è il trucco l'illuminante mi sono piaciuti molto quindi devo essere proprio onesta e questo è quanto aspetto i vostri commenti allora bacio grandissimo e noi ci vediamo domani con un nuovo video mia famiglia vi voglio bene ciao ciao ciao